Quando la cultura e la musica si fondano ne nasce un genere particolarissimo, il Progressive Rock che andremo a scoprire nella prossima puntata di Rock of Ages. Tantissime le band che scopriremo e vedremo attraverso i loro video, sia italiane che internazionali. L'appuntamento è per domenica 4 febbraio alle ore 21 su ON TV Web.